La poesia è quando un'emozione ha trovato il suo pensiero e il pensiero ha trovato le parole. La frase del poeta statunitense Robert Lee Frost riassume perfettamente l'essenza che si coglie leggendo le poesie del volume Ale, scritto dal poeta e giornalista abruzzese Alessandro Vasile e pubblicato da Arsenio Edizioni. Lo studente del liceo classico Gabriele D'Annunzio di Pescara e al suo esordio, e come scrive nella prefazione Dante Marianacci, presidente dell'Associazione La Casa della Poesia in Abruzzo, Gabriele D'Annunzio, ci si aspetta molto da questo giovanissimo poeta che sa usare anche nelle similitudini e nei paradossi una piacevole punta d'ironia, perché le premesse di temi, di ricerca, di un suo linguaggio e di ambizioni ci sono tutte, sia pure con disillusa illusione, ma anche con la consapevolezza per chiudere il cerchio, tra sinonime e contrari, tra affermazioni e negazioni. Poesie nelle quali si colgono echi di autori sia classici che contemporanei. Poeti greci contemporanei come Cavafis, Rizos, Seferis, Elitis, anche e Quasimodo, Leopardi. Ma cosa vorrebbe che venisse trasmesso attraverso le sue poesie? Sicuramente mi piacerebbe che le persone attraverso le poesie avessero la possibilità di andare oltre la realtà. La poesia spesso è fatta, si fa per trasfigurare la realtà e quindi mi piacerebbe che le persone, leggendole, possano magari avere un punto di vista differente sulla realtà che hanno vissuto sia nel passato recente che nel presente, per avere un'altra visione di ciò che magari a loro sembra semplice oppure scontato. Come guarda al futuro questo giovanissimo poeta? Tra qualche anno innanzitutto spero di essere una persona migliore di quello che sono al momento. Il mio sogno in realtà sarebbe quello di oltre di fare giornalista anche di diventare un regista, comunque lavorare nel mondo del cinema che è un mondo che adoro. Magari se riuscissi ad aprirmi ad altri mondi che comunque siano nell'universo dell'arte mi farebbe molto piacere.